Ciao a tutti, sono Vincenzo Gorino ed esercito della professione di dottore commercialista. Volevo condividere con voi l'esperienza che ho fatto in questi mesi del prodotto Tueppi perché mi sono trovato bene. Essenzialmente quello che cercavo è un prodotto che mi consentisse di automatizzare dei processi di studio e di aumentare, questo un po' tutti lo vogliono, aumentare la produttività e l'efficienza che si ha all'interno dello studio professionale, nel caso mio, ma anche di piccole e medie imprese. Ora non è possibile avere un miglioramento della produttività e dell'efficienza senza avere il controllo di ciò che si è fatto e senza avere una pianificazione e quindi un controllo, un tenere in vista le cose che sono da fare. Questo Tueppi lo consente perché è un prodotto che mette insieme un gestionare di posta elettronica un CRM e un task manager. Quindi ci dà la possibilità di tenere sotto traccia i processi qualsiasi sia il canale che l'ha generato. Quindi può essere una mail di posta elettronica, può essere un messaggio, può essere una telefonata. Inoltre il processo viene controllato e gestito da una piattaforma, di fatto parallela in tempo reale, di messaggistica all'interno dello studio che consente delle procedure di smart working ovunque si trovi il collaboratore che sta utilizzando quella pratica. Quindi quello che rimane da fare per quanto riguarda noi titolari, noi imprenditori è quello del personalizzare in base a quelle che sono le proprie esigenze del popolare lo strumento con tutti gli eventi che vengono a crearsi all'interno delle procedure aziendali. Quindi termino facendo i complimenti a tutto lo staff di Tuebbi e invitandoli a continuare nella strada della produttività e dell'efficienza che stanno percorrendo.